ciao oggi ti spiego come recuperare certificati anagrafici di residenza di matrimonio o di stato civile spesso richiesti in fase di rogita notarie per una compraventa che potrai fare tutto in totale autonomia con pochi clic a npr è la sigla che sta per anagrafe nazionale della popolazione residente è la banca dati unica che semplifica i servizi anagrafici per tutti i cittadini segnati questo sito web www.anpr.interno.it che è il portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente italiana ed è gestito dal ministero dell'interno il sito web è stato creato per consentire ai cittadini di effettuare le operazioni relative all'anagrafe nazionale in modo rapido ed efficiente e rendere il cittadino autonomo in particolare il sito web offre la possibilità di scaricare diversi certificati utili tra cui il certificato di nascita certificato di matrimonio di cittadinanza di residenza di stato civile o stato famiglia la npr è stato creato con lo scopo di modernizzare e semplificare la gestione delle anagrafi comunali se pensi che ti sia stato utile lasciaci un like e condividi questo video